Rischia l'amputazione di una mano l'operaio della Overseas SPA, che sabato mattina è stato vittima di un gravissimo incidente avvenuto nel cantiere di Radimero, nei pressi di Acquadra Scrivia, dove è in corso la costruzione di una lunga galleria peninica del Terzo Valico. L'uomo era impegnato nella manutenzione di un astrotrasportatore, quando un cavo metallico gli ha tranciato tre dita. Questo è solo l'ultimo episodio di una catena di infortuni sul lavoro, che avevano coinvolto per ai già nel 2018 a voltaggio, poi nel 2019 nella cava del Monte Grazio a Genova, un anno fa nella cava Clare Buona d'Alessandria e lo scorso ottuno nel cantiere di Castagnola presso Fraconalto. Incidenti che naturalmente riportano l'attenzione sul tema della sicurezza sul lavoro. Caldeggiato da tutte le sigle sindacali, che già per quanto era accaduto in passato avevano sempre tenuto il fiato sul collo, alle oltre 2.300 imprese impegnate nella costruzione della linea ad alta velocità Genova-Milano e alle condizioni di chi opera nei cantieri. La parola sciopero non è nuova in merito. Dopo gli infortuni degli scorsi anni ci sono state numerose estensioni dal lavoro e oggi, dopo il tragico fatto accaduto da Quattascrivia, ancora i sindacati del settore edile Fenial-Wil, Filca-Cisle, Filia-CGL, sono scesi in campo proclamando per questa mattina quattro ore di sciopero per tutti i turni della giornata, mentre sono in corso accertamenti sull'accaduto da parte delle autorità competenti per verificare se le norme di sicurezza siano state rispettate interamente. Esprimiamo la nostra piena vicinanza al lavoratore coinvolto, hanno affermato i sindacalisti Paolo Tofu della Fenial-Wil, Massimiliano Campana della Filca-Cisle, Rocco Politi della Filia-CGL. E riprendiamo naturalmente la fiducia nelle autorità prontamente intervenute, auspicando che venga fatta massima chiarezza al più presto sulle cause e le dinamiche del grave incidente. I sindacalisti, assieme ai rappresentanti dei lavoratori, avevano chiesto subito dopo l'evento un incontro con la sedia Oversise e con il Cocive, il consorzio incaricato dallo Stato per la costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità. Nel frattempo i sanitari stanno tentando il tutto per tutto per salvare la mano dell'operaio.